Quell'affetto, quell'attesa, quell'attesa affettuosa che abbiamo sentito l'anno scorso quando il Motor Show non ha potuto esserci e che questa è la prima cosa che vogliamo dire già da Michetti e io, io per Bologna Fiere assieme ai nostri amici e partner di G.E. Levante. Abbiamo sentito il dovere di un impegno, di un impegno di restituire a noi stessi ma soprattutto al suo pubblico, ai tanti appassionati in Italia oltre che nella nostra regione, nella nostra città, a quelle tante persone che scrivevano già da vogliamo che il Motor Show ritorni. Abbiamo sentito un impegno, un dovere, una responsabilità in un momento che era ed è naturalmente ancora un momento difficile per il nostro paese, per la sua condizione economica, per un settore come quello dell'auto di cui tutti sappiamo, ma abbiamo deciso che allora questo Motor Show doveva tornare, doveva essere un nostro impegno di investimento e di investimento sul futuro. Lo abbiamo voluto fare con la fatica che questo comportava, con la consapevolezza delle difficoltà, con l'impegno anche di investimento che era necessario. Abbiamo deciso di farlo, lo abbiamo fatto assieme con una formula nuova, assieme appunto agli organizzatori del Motor Show a GL1. Abbiamo creato, come voi sapete, per il Motor Show 2014 una formula di joint venture di impegno comune tra noi e abbiamo voluto realizzare questa impresa. Siamo contenti, sinceramente, di essere arrivati fin qui, come si dice, di essere arrivati, oramai possiamo dire, a vedere il traguardo e allora la notizia semplice, ma che insomma anche con un po' di emozione assieme vediamo, è che se andate usciti di qui nella nostra area 48 vedrete già al lavoro chi deve tracciare la pista e chi deve costruirla e realizzarla e siccome siete qui però vedrete che questa è la notizia, dal 6 al 14 di dicembre del 2014 ci sarà il nostro Motor Show e siccome bisogna dare la prova dei fatti, facciamolo vedere. E come sarà questo Motor Show? Anche qui facciamolo vedere Lorenzo. Motor Show. Ecco qua. Adesso naturalmente mi parlerà di tutto Giada Michetti che io voglio ringraziare tantissimo per il lavoro che ancora una volta ha messo a disposizione del suo e nostro Motor Show assieme al suo team, così come se posso al team di Bologna Fiere che ha lavorato per questo Motor Show e con tanti amici vecchi e nuovi che abbiamo trovato e che ci fanno ben sperare per quello che realizzeremo nei prossimi giorni e per quello che realizzeremo anche nel futuro. è un Motor Show che riempirà per buona parte il quartiere fieristico di Bologna Fiere e vedete qua già i padiglioni, i tanti padiglioni che saranno riempiti dal Motor Show 2014. ci avremo quindi 11 padiglioni impegnati, le aree di prova dove si potranno realizzare i test drive che assieme all'esposizione le case automobilistiche hanno voluto realizzare, 10 aree appunto di test drive, così come la presenza appunto delle 19 case e brand automobilistici che saranno presenti. Una grande area di motorsport, l'area 48 che appunto abbiamo già cominciato in queste ore a costruire e un qualche cosa che appartiene in modo particolare al Motor Show di Bologna. chi verrà a visitarci potrà vedere e percorrere la Route Motor Show, come abbiamo detto al momento della presentazione. sarà la Route Motor Show della nostra Motor Valley e qui ringrazio e saluto per la sua presenza molto importante la Presidente di APT della Regione Emilia Romagna, Riviana Zanetti, che assieme a noi costruisce questa idea della Route Motor Show e della Motor Valley che sarà presente e che sta già lavorando ad un progetto molto importante, e ce ne parlerà con le sue parole del suo intervento che già guarda al prossimo anno, al 2015, a quando l'Emilia Romagna con i suoi valori e con le tante cose che potrà dire vorrà parlare anche a Expo 2015, e al pubblico straordinario internazionale di Expo 2015 e proprio per questo mentre prepariamo e siamo alla vigilia del nostro Motor Show 2014 pensiamo già assieme al Presidente Zanetti, così come a tutti gli altri con cui lavoreremo al percorso che dovrà essere a disposizione di tutto il pubblico di Expo 2015 e che sarà quindi anche il percorso del nostro Motor Show 2015 e a cui già guardiamo con tutto l'impegno e con tutta l'attenzione necessaria. La Motor Valley può stare solo da una parte qui e qui sta e qui la faremo ancora mostrare a tutti coloro i quali visiteranno Motor Show dei prossimi giorni e Motor Show del prossimo anno. Io chiederei ora a Giana di parlarvi del nostro Motor Show. Bene, posso? Aiuto. Buongiorno a tutti. Finalmente ci rivediamo. Dalle conferenze stampa che abbiamo fatto ormai quattro mesi fa tra il nord e il sud dell'Italia dove abbiamo presentato il Motor Show. Eravamo in un altro momento dell'anno, l'anno è stato abbastanza complicato, però c'è una parola chiave di quest'anno che è condivisione. La condivisione che abbiamo avuto con Bologna Fiere, la condivisione che abbiamo avuto con tutti coloro che fanno parte di questo bellissimo ritorno del Motor Show. Perché un anno con un percorso difficile? Perché un po' le condizioni del Paese che non sta a me ricordare, un po' quelle del mercato automobilistico che è in leggera ripresa, ma come sappiamo comunque è al 40% sotto rispetto ai livelli di precrisi, quindi ci siamo sforzati di capire quale poteva essere il nuovo format per poter riuscire a coinvolgere il nostro pubblico. E abbiamo fatto un format che riteniamo essere innovativo, coinvolgente, ingaggiante, esperienziale. Abbiamo rivisitato il Motor Show del 1976 di Sandro Munari con un'operazione di marketing come quelle che spesso hanno fatto le case automobilistiche, basti pensare alla Volkswagen con il Maggiolone, alla Mini o alla stessa 500 e alle 500udine di cui vantano il successo. Siamo partiti dal Motor Show degli esordi. Il Motor Show è alla 39esima edizione e in questi 40 anni diciamo che abbiamo incontrato almeno un paio di generazioni e stiamo andando a intercettare quelle generazioni che oggi è più difficile riuscire a intercettare. Sono quelle del social, sono quelle dei social network o del web e quello che noi dobbiamo raggiungere è una grande affluenza, un grande ritorno del pubblico ma anche l'ambizione di essere di supporto ad un settore che è in difficoltà come quello dell'automotive ma che è strategico. L'automobile è una grande innovazione tecnologica del ventunesimo secolo e ha garantito la mobilità personale a tutti. Oggi devo affrontare molti cambiamenti e il primo è sicuramente quello tecnologico, quello dei carburanti alternativi, quello delle nuove motorizzazioni, delle vetture elettriche, ibride. Poi ci sarà anche da verificare il car sharing, questa sostituzione della proprietà del veicolo in un paese dove il servizio pubblico non è semplicissimo ma proprio per conformazione geografica e per la storicità delle città. C'è un dato che è importante, il 75% degli italiani va a lavorare in automobile e quindi questo ci fa capire ancora la centralità comunque di questa vettura e di questa innovazione tecnologica del ventunesimo secolo. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di sviluppare in questo nuovo format del motor show cinque grandi temi, naturalmente partendo dalla presenza del prodotto automobilistico e poi dall'innovazione tecnologica, poi come diceva il Presidente, la route motor show perché solo il motor show può avere la route motor show che è un percorso che si snoda attraverso la passione per l'automobile toccando i temi della cultura, della tradizione, dell'heritage, la motosport perché il motosport è da sempre la cifra essenziale, la differenza rispetto a tutti gli altri saloni esistenti al mondo e in più abbiamo aggiunto questo linguaggio trasversale che è la musica e quindi il paddock party. Sono 19 i brand automobilistici presenti, come annunciava il Presidente, ve li elenco Abarth, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Ferrari, Fiat, Honda, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Nissan, Pagani, Porsche, Seat, Smart, Skoda, Volkswagen. Lo diciamo con un grande orgoglio, questi marchi sono presenti in diversi, in alcuni casi in esposizione statica oppure nelle aree test drive oppure in entrambe le modalità o all'interno dell'innovazione tecnologica o all'interno della route motor show. Sono questi i grandi marchi e non posso assolutamente dimenticare che all'interno dell'innovazione tecnologica alcuni di questi marchi avranno delle doppie presenze, alcune nell'Expo e alcune nell'Innovation, ma avremo anche la Magneti Marelli che ha un suo stand anche all'interno della route motor show perché fa parte della storia di questo tessuto sociale attraverso la Weber, avremo la Tesla all'interno dell'innovazione tecnologica, avremo nel centro servizi la nuova Smart che finirà il suo road show internazionale e ha scelto di finirlo in Italia al motor show di Bologna. All'interno della route motor show avremo tutti i musei che sono in questa regione Emilia-Romagna, ai due grandi musei Ferrari, anche loro con attività di engagement per il pubblico estremamente sfidanti, e lo vedrete, avremo la collezione Umberto Panini che ripercorrerà i cento anni di storia della Maserati, la Ducati che non l'abbiamo inserita tra i marchi automobilistici, ma fa parte comunque di un gruppo automobilistico come tutti sapete, l'Audi, e quindi fa parte anche di questa regione e sarà presente con la storia della Superbike, l'archivio storico di Magneti Marelli della sezione Weber, la Lamborghini con due modelli tra il passato e il futuro, la Hurricane e la Miura, la Pagani, abbiamo anche proprio la storia dell'inizio degli anni venti, le due motociclette della GD che sono museali e che fanno parte di una delle aziende più famose all'estero, ma che è di questo territorio. Avremo tutti i musei, i bandini, i stanguellini, i righini, il museo dell'auto di San Martino, gli autodromi, quello di Imola, di Misano, di Varano, di Modena, come potrebbe essere il motor show in un altro posto? Volete anche che vi ricordi tutti i piloti che sono nati in questa regione? Ne dico soltanto uno, Alex Zanardi. Ecco, tra le eccellenze del territorio c'è anche la Cineteca di Bologna, quindi abbiamo pensato di creare il drive-in. Il drive-in è questa possibilità che avremo di vedere dei film a soggetto automobilistico per fare anche della cultura dell'automobile, ma che all'interno di questo padiglione avrà diverse attività di engagement, non soltanto legate al drive-in, con film come Grease, Taxi Driver, Gioventù Bruciata, 007, Rush. Cioè, tentiamo di portare la cultura cinematografica attraverso un'eccellenza di questo territorio, la Cineteca. ma anche scoprire la chiave storica e divertente attraverso un programma di eventi tra esposizioni, performance, comics. Cioè, abbiamo un albero di attività da svolgere all'interno del motoshow, dove mediamente il pubblico rimane per sei ore, che è importantissima. E molto di tutto questo fa parte della Rout Motoshow e noi abbiamo voluto insistere molto in questa strada, in questa Via Emilia, perché ci sono molte ricorrenze da festeggiare all'interno della Rout Motoshow, come i 40 anni di Porsche 911, come il registro storico dell'Aci, i club storici regionali, è tutta la storia e la passione dell'automobile. Poi c'è quella che abbiamo chiamato la cifra distintiva del motoshow, le aree test drive, 10. Sono tutte occupate, tutte impegnate da brand automobilistici, esclusa una che avrà invece i quad, che potranno essere testati dal pubblico. E la motosport arena. La motosport arena negli anni ci ha fatto sognare con il pit stop della Ferrari, che avremo il giorno 14. Ma iniziamo dal primo weekend, il programma su asfalto, velocità, abbiamo pensato a qualche cosa di nuovo che in Italia non si era ancora visto, quindi porteremo la Formula E, la NASCAR, il drifting con il team Orange dal Giappone, il GT Challenge, l'auto GP, il trofeo V8, le storiche e il motocross. Nel secondo weekend la motosport arena cambia assetto, come da tradizione, diventa un circuito rally e accoglie tutte le categorie del campionato italiano e i rally ed una celebrazione dei modelli che hanno segnato gli anni 70, 80, 90. E qui voglio ringraziare Franco Cunico e Sandro Munari che ci hanno aiutato di più in questa organizzazione complessa dove piloti degli anni 70 e auto degli anni 70 oppure decade 80 e 90 si sfideranno e vedremo appunto Sandro Munari, Alessandro Bettega, Toni Fassina, Biasion, Fiorio, Serrato, Cunico, Dallavilla, Ghini, Pietro Longhi. Poi cominciamo con la super motard ma anche con un gran finale che è quello del ritorno del Memorial Bettega che è dal 2011 che non vediamo nell'arena motosport e il Memorial Bettega vedrà una sfida tra grandi celebrities. Ve ne cito una, una è Ken Block, tutti coloro che si occupano di automobili sanno assolutamente chi è, comunque per tutti gli altri ha 66 milioni di visualizzazioni su YouTube. è stata chiusa a San Francisco per consentirgli di fare una gincana. Ecco, lo avremo a Bologna nella nostra arena, avremo come ho già detto il pit stop di Formula 1. Ma andiamo su un ultimo tema, l'ultimo dei cinque, il paddock party. E' una cosa nuova, innovativa, la musica è un linguaggio trasversale, saranno degli eventi extra orario e saranno degli eventi quindi serali. Si parte con il 6, la festa di MTV che inaugura il motoshow con il Double Bill J-Axe & Fedez, forse lì vedete questi ragazzi ad X-Factor. Il domenica 7 ci sarà Benny Benassi & Friends con 19 DJ italiani che suoneranno uno contro l'altro, una formula che si chiama back to back, si sfidano a brani di mix dalla stessa console. Il giorno 12 dicembre a intrattenere il pubblico del motoshow avremo invece Bob Sinclair, una star internazionale, verrà con la campagna Remix di Emozioni di Vecchia Romagna, un'altra eccellenza di questo territorio. Il 13 dicembre il motoshow ospiterà invece i Web Show Awards, è il primo evento in Europa dedicato alle celebrities del web, sono star d'eccezione ormai, i music performers della scena rap, Rocco Hunt, Salmo, Moreno, io forse sono fuori età, ma ritengo che abbiano un grandissimo seguito, questo è quello che sappiamo, ci sono milioni di voti sul sito Web Show Awards che è stato sviluppato per questa giornata e ci saranno dati appunto gli awards a tutte le diverse categorie di Webstar. Potrei citarne ancora alcuni, Frank Matano, ma insomma sono veramente tanti e forse li vedete nella nostra presentazione e li troverete in cartella. Avremo simulatori di guida, contest, car wrapping nel padiglione 21, tuning, avremo anche un momento dedicato al B2B che è un po' più selettivo ma che fa parte del sistema motoshow e coinvolge la filiera italiana dell'automotive, le istituzioni, il mondo della ricerca e dell'università. È la giornata del 5 che sarà la giornata operatori e stampa. Nel corso di quella giornata ci sono diversi appuntamenti in calendario che avete appunto in cartella ma citerò la tavola rotonda dell'URAE che ha un senso di istituzionalità e l'anticrisi dei perché è un contenitore importante che unisce i dealers in una particolare attenzione che sarà proprio quella della ONLUS perché avrà una finalità appunto ONLUS e questa giornata, questo pomeriggio dell'anticrisi dei sarà aperto dalla Lezio Magistralis di Roberto Napoletano che è il direttore del Sole 24 Ore. Avremo un opening sabato 6 dicembre che abbiamo intitolato From Track to Road the Innovation Challenge e ha un focus specifico sulla Formula E. Avremo Jarno Turulli, Michela Cerruti che sono i piloti che in questo momento stanno sviluppando questa nuova formula che ha la caratteristica di correre nei circuiti cittadini e noi l'avremo qui a Bologna con uno show run nell'area 48 ma taglierà anche il nastro del motoshow e questa sarà una sorpresa che vi faremo. A questo punto io desidero ringraziare innanzitutto la Fiera di Bologna per aver condiviso con noi questo percorso. La PT Emilia Romagna, tutto il tessuto sociale che ci ha sostenuto, la città, l'Unipol, Unindustria, Vecchia Romagna, tutti i numerosi followers, il popolo dei social che in questo momento è numerosissimo e sono ormai mesi che ci sta dando la forza e la sensazione proprio che volevano il ritorno del motoshow e questo lo abbiamo sentito in maniera toccante. C'è molta aspettativa dietro questa manifestazione che si svilupperà appunto in un contesto, come sappiamo, difficile ma che ha una cifra che accomuna tutti, la passione per l'automobile. Grazie. Grazie a Giada, un saluto particolare vogliamo dare naturalmente a chi oggi è voluto essere qui con noi a cominciare dalla signora viceprefetto di Bologna e poi a chi sarà presente come nelle edizioni che hanno accompagnato il motoshow e quindi naturalmente gli amici della polizia stradale così come dell'esercito italiano che ora hanno la loro presenza all'interno dei nostri padiglioni assieme a quella così importante che ha fatto del motoshow un momento anche di educazione, informazione per tanti ragazzi dell'osservatorio della Regione Mineromagna per la sicurezza. Ma ora do la parola ringraziandola molto per quello che già facciamo assieme e per quello che faremo la Presidente di APT regionale Riviana Gianetti. Sono io a ringraziare il Presidente e a ringraziare l'appassionata presentazione della Dottoressa Michetti che credo che abbia riscaldato i cuori e creato grandissima attenzione e anche curiosità per il percorso che ci apprestiamo a vedere al motoshow di quest'anno ricchissimo, coinvolgente e perché APT? Perché stiamo lavorando intensamente per l'obiettivo che gli italiani hanno davanti che è sicuramente Expo 2015 ma in questo percorso stiamo strutturando insieme e creando un percorso concreto per rendere sempre di più visibili e di dimostrazione le eccellenze del nostro territorio. Ecco allora che oserei dire che quest'anno a Motoshow c'è un incontro un matrimonio tra Motor Valley e Food Valley concreto, fattivo all'interno di Motoshow che vedrà l'eccellenza sicuramente come abbiamo sentito delle nostre eccellenze a due ruote a quattro ruote incontreranno anche le nostre eccellenze che sono della Food Valley lungo la Via Emilia in fin dei conti noi ci presenteremo Expo 2015 con la nostra spina dorsale la spina dorsale della regione Emilia-Romagna è appunto la Via Emilia intorno alla quale la direi tradizione e innovazione si incontrano la passione il senso dell'ospitalità l'enogastronomia appunto e l'ingegno quindi Motor Valley e Food Valley allora al padiglione 26 ci sarà proprio questo questa presenza credo importante delle nostre eccellenze naturalmente per quel che riguarda Food Valley noi avremo la possibilità della presentazione delle nostre eccellenze appunto 41 prodotti dopo IGP abbiamo il primato dei prodotti di eccellenza in questa regione e credo che la consapevolezza di questo debba renderci orgogliosi e questa passione che si è avvertita nella presentazione di questa edizione del Motor Show debba veramente essere patrimonio di tutti dove tutti dobbiamo essere veramente orgogliosi e credo che questo orgoglio ci faccia e questa consapevolezza ci faccia anche attraversare in maniera determinata questo periodo sicuramente di difficoltà dicevo al padiglione 26 sarà possibile degustare i prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio grazie all'organizzazione di Piacere Modena e al coordinamento di APT Servizi quindi appunto l'incontro di Food Valley e Motor Valley io mi fermerei qui perché credo che credo che sia siamo tutti in attesa di questa di questo grande evento del Motor Show del nostro territorio e vorrei sottolineare che la battuta che è stata fatta prima Motor Show dove se non qui grazie naturalmente ora a voi alle vostre domande la vostra attenzione prego buongiorno sono Andrea Tosi la gazzetta dello sport avrei un paio di domande ma prima mi preme congratularmi con Giada Michetti per la professionalità ma soprattutto per la tenacia che ha dimostrato nel voler riportare questa rassegna a Bologna io faccio parte della penultima generazione intercettata dalle parole che ha detto Giada io vorrei sapere questo all'improvviso da nulla o da poco il Motor Show si ripresenta per quello che conoscevamo cioè con nove giornate di mostra con 19 case automobilistiche mentre la crisi che ha colpito diciamo così il salone dell'anno scorso era relativo soprattutto all'assenza delle case automobilistiche ora Giada Giada ha parlato di condivisione come parola magica ma credo che tutto questo non si ottenga solo per buona volontà e per lavoro di squadra credo che evidentemente è successo qualcosa c'è stata una scintilla che ha diciamo così cambiato un po' i parametri o del mercato o della o della situazione economica in generale naturalmente bravi voi a coglierla o a sfruttarla ecco volevo solo sapere allora prima se c'è c'è stata una situazione un po' se vogliamo anomala o comunque diversa da quella che immaginavate che vi ha consentito di rilanciarvi in questa maniera poi dopo chiedo sulla questione dell'afflusso che è una richiesta specifica che tu Giada hai chiesto quali numeri vi aspettate di fare naturalmente in relazione a un rilancio e anche fronteggiando una crisi importante e infine l'ultima domanda mi scuso generalmente questa rassegna era affidata anche all'immagine di una madrina o di un padrino qui vedo tante persone relative al mondo dell'auto ma non leggo di personaggi più o meno in vista eccetera questo non è non è voglio dire naturalmente una carenza è solo una curiosità grazie allora caro Andrea partiamo dalla madrina la madrina come sai è sempre stata un comunicato finale in vicinanza dell'apertura al pubblico si saprà chi è la madrina di personaggi esattamente è sempre stato così è sempre andata sull'attualità di personaggi importanti ritengo che in cartella ne abbiate molti quindi mi permetto di dissentire e anche sul fatto che ci sia stata una scintilla particolare o determinata da qualche cosa il lavoro paga noi abbiamo lavorato ma abbiamo lavorato tutti insieme a questa operazione e questa operazione è nata a ottobre 2013 quindi è veramente il lavoro di più di un anno le case automobilistiche nell'arco di questo anno diciamo fino perlomeno i primi cinque mesi hanno sempre avuto dei segni negativi nel nel mercato poi hanno cominciato ad avere dei piccoli segnali a dare dei piccoli segnali di ripresa quando sappiamo perfettamente qual è la situazione come ho detto prima siamo ancora al 40% sotto rispetto ai momenti precrisi mi sono andata a guardare quali erano i valori della produzione nella crisi del 29 i valori di produzione dal 1929 sono ritornati quelli di precrisi stiamo parlando di poche migliaia di automobili all'inizio del novecento sono tornati quelli di precrisi solo dopo nove anni quindi abbiamo dovuto scegliere comunque di avere un motoshow che coincide con il motoshow con la partenza del motoshow abbiamo fatto quell'operazione di marketing di cui pensavo prima abbiamo riattualizzato il motoshow di un tempo e quel motoshow ha avuto un grandissimo successo dal 1976 al 1980 quel motoshow ebbe un grandissimo successo ecco noi abbiamo cercato di attualizzare quel motoshow che ci ha raccontato Sandro Munari di cui vi abbiamo parlato anche nelle nostre conferenze stampa ormai quattro mesi fa scusa sull'afflusso che ti aspetti o che vi aspettate o che garantiremo non diciamo niente guarda rispondo va bene buongiorno sono Fabio Avila tuttorelli ovviamente siamo interessati nello specifico nel settore gare memoria albebete ho letto buttato un occhio nella cartella stampa ho visto Evans con praticamente la Ford chiedevo se c'era qualche altra anticipazione sui nomi dei piloti e vedo anche che mi sembra che la pista dell'area 48 sia un po' diversa dal solito forse la domanda andrebbe rivolta a Franco Cunico che è quello che ha seguito questo settore anche qualche nome di piloti del CIR insomma qualche realista oltre a quelli del settore chiamiamo così revival oltre a Evans come dicevi e Ken Block di cui vi abbiamo parlato noi stiamo ancora comunicando quindi vi daremo ancora altri nomi nei prossimi giorni volevo sottolineare che le piste dell'area 48 sono 5 non so se siete riusciti a capire questo nella nostra presentazione questa particolarità sono 5 perché nell'arco dei 9 giorni cambiano le discipline quindi cambiano le piste cambiano i prodotti che gireranno su queste piste ma per quello che riguarda i rally vedrai che avrete ancora delle belle sorprese sono Stefano Budriesi tutto sport una domanda per Giada la frase più significativa che hai detto in questa presentazione è stato come potrebbe essere il motor show organizzato in un altro posto vedo se non sbaglio che per la prima volta avete aggiunto l'articolo il al brand storico sono due risposte indirette o forse anche dirette a chi ha provato a farvi concorrenza a organizzare qualcosa di alternativo grazie francamente il il motor show lo abbiamo lanciato con il presidente nelle quattro conferenze stampa di cui parlavo prima di giugno che sono state fatte in quattro diverse città contemporaneamente sono andate via streaming e lì abbiamo lanciato il marchio il motor show naturalmente credo di aver spiegato anche abbastanza bene il perché il motor show si svolge a Bologna e siamo partiti addirittura dalle aziende della meccanica di questo territorio per arrivare ai natali dei piloti e però c'è ancora una cosa che è determinante è il quartiere fieristico perché solo in questo quartiere fieristico ci sono 11 aree esterne di cui noi come sapete utilizziamo 10 per i test drive e una per le famose 5 piste che avete visto e non c'è nessun altro quartiere fieristico in Italia che ha una struttura come questa che consente di fare veramente un motor show cioè qualcosa di diverso da un salone dell'auto tradizionale e statico che è centrale geograficamente che è un quartiere fieristico cittadino e che è l'unica quartiere fieristico che ha un casello autostradale dedicato poi lavorerò per Bologna Fiere ho fatto un peana di Bologna Fiere adesso mi aspetto che il presidente faccia altrettanto con lo FGL sono Simone Arminio del resto del Carlino non si fanno previsioni sull'affluenza d'accordo e ci sta però quello che si può dire è che abbiamo già detto che ci sono state dei buoni numeri di prevendita storicamente il Motor Show ha sempre venduto molti biglietti anche molto prima l'affetto sui social network l'abbiamo visto anche noi quindi chiedevo se qualche dato invece sulla prevendita in rispetto agli altri anni si può dare e aggiungo questo la nuova formula è stata quella che in qualche modo si è detto anche sbloccato i tempi duri dell'anno scorso cioè non non avere soltanto un Motor Show classico con l'automotive quindi anche partecipazioni di diverso tipo ci chiedevamo però quali sono tra i marchi che ci avete presentato quelli che hanno scelto una più classica impostazione quindi chi troveremo nell'automotive e in generale se è stata proprio questa chiave di diversificazione anche la leva per convincerli a ritornare al Motor Show per ultima si consenta se in qualche modo ha influito e quanto la resa dell'avversario perché è stato molto la resa dell'avversario cioè il fatto che non si sia fatto il Milano Auto Show grazie anche qui partirei dal fondo presumibilmente non c'è nessun altro salone in Italia perché prima hanno scelto il Motor Show quindi è diverso chi ha scelto il Motor Show lo ha scelto in diverse con una partecipazione diversificata cioè alcuni marchi automobilistici che sono statici come diceva lei sono statici in diverse in diverse aree in diversi temi svolgono diversi temi all'interno della manifestazione quindi li troveremo nella parte di esposizione li troveremo nella parte vintage o storica o della Route Motor Show li troveremo nell'area esterna per i test drive li troveremo nello sport quindi sono diversi sistemi di partecipazione credo che una delle chiavi perché possano aver scelto i brand automobilistici di partecipare è la sostenibilità abbiamo reso sostenibile la loro partecipazione i numeri scusa siamo assolutamente in linea con il 2011 anche se ha un calendario diverso quindi dei sabati e domeniche diverse dove generalmente si vende di più abbiamo già venduto più di 15.000 biglietti la percentuale è sovrapponibile a quella del 2011 avete ancora delle domande magari da fare al presidente che così può fare anche lui qualche esatto fate le domande difficili al presidente Piero Evangelisti il giornale buongiorno a tutti buongiorno a tutti è sempre mia no no c'è il convitato di Pietra che non si nomina che è Alfredo Cazzola quando ha rinunciato a Milano sappiamo mesi fa ha lanciato un'idea di fare un polo hai mai letto un comunicato stampa di annullamento io no non c'è stato no vabbè comunque prendiamo atto che non c'è stato nessun tipo di esposizione di motori a Milano comunque in quella fase è stato riportato da diverse media è stato anche in parte confermato è stata fatta questa proposta questa idea per l'Italia per far ripartire e chiedevo se è stata recepita come la valutate la seconda cosa si si ma arrivo seguo quello che ha detto Andrea non sarà stata una scintilla però sappiamo che voi lavorate bene avete lavorato anche l'anno scorso ma l'anno scorso non ha pagato giusto quindi qualcosa è cambiato quest'anno grazie ma guardi naturalmente qua siamo in un momento sportivo e nello sport noi sappiamo che la competizione fa bene a noi ha fatto bene anzi benissimo perché ci siano rimboccati le maniche sinceramente abbiamo voluto ancora di più che ci fosse il motor show abbiamo puntato come è stato notato e ci fa piacere che questo sia stato appunto considerato che potevamo arrogarci per un attimo insomma il diritto di dire che il motor show era quello che si realizzava a Bologna e devo dire che quindi questa competizione ci ha premiato ma ci ha anche sollecitato a lavorare ancora di più senza nessuna polemica però devo registrare che si è realizzata in Italia un'operazione un'iniziativa sul mercato fieristico che non si è mai vista non si è mai visto che non voglio neppure dire un organizzatore ma un grandissimo centro fieristico il più importante del nostro paese e con il quale noi collaboriamo molto volentieri ho passato la mia giornata ieri a Milano molto volentieri sia per partecipare a una bellissima manifestazione fieristica che si chiama Mecci c'era anche il ministro Lupi quindi ci siamo incontrati lì e che ha una responsabilità molto importante quale quella di condividere una impresa importantissima per tutto il paese l'organizzazione dell'Expo e io ero a Milano anche perché se nel pomeriggio partecipavo a questa manifestazione a Milano Fiere al mattino l'ho passato a perfezionare gli accordi con il commissario Sala per la partecipazione che sarà forte importante di Bologna Fiere a Expo 2015 nel padiglione e nell'organizzazione del padiglione della biodiversità e per il made in Italy del biologico italiano quindi un grandissimo rispetto per tutto il sistema fieristico per i centri fieristici per gli amici di Milano Fiere però lei è del giornale e lei deve registrare che si è realizzata un'operazione mai vista cioè l'annuncio in grandissima scala della realizzazione di una manifestazione sovrapposta a Motor Show 2014 a Bologna Fiere nelle giornate che sono state indicate e che poi improvvisamente scompare e di cui non si sa più nulla questo naturalmente ha creato una condizione di competizione anomala e io devo registrare che è avvenuta un'operazione anomala che non fa bene al modo con il quale invece si deve competere veramente perché naturalmente questo ha reso più difficile il lavoro di tutti e noi siamo contenti di essere arrivati al traguardo resto ancora sorpreso di come sia potuta accadere un'operazione così anomala che credo quindi non possa passare così sotto silenzio diciamo così relativamente dalla modalità con cui si è svolta detto questo io penso che c'è da fare molto per il mercato dell'auto e per il settore della mobilità in Italia siamo un paese che deve ripartire deve ripartire in tante direzioni anche in questa credo che l'Italia non possa assolutamente accontentarsi della condizione oramai arretrata che ha nella dimensione e del mercato e dell'attenzione europea nel settore automotive credo che il settore automotive non sia fatto soltanto dalle case automobilistiche ma nel nostro paese è fatto da una grandissima filiera dove si produce tecnologia dove si produce tecnologia veramente innovativa qui nella nostra regione in modo particolare Bologna Fiere nel settore automotive ospita ed ha come partner una grandissima manifestazione dell'automotive come voi tutti sapete quindi che è autopromotech come noi riteniamo quindi che bisogna investire reinvestire in questo settore noi Bologna Fiere l'abbiamo fatto lo faremo ancora come ho detto lavoriamo per il motorshow 2014 ma pensiamo già al motorshow 2015 quindi in tutta sincerità si risparmino la fatica quelli che dicono non l'abbiamo fatto nel 2014 lo faremo ancora più bello nel 2015 nel 2015 ci sarà l'iniziativa di motorshow Bologna in un progetto di cui avremo modo di parlare molto e con molta passione che riguarderà il modo con il quale tutta l'Emilia Romagna sarà nella dimensione dell'Italia che riceve l'Expo 2015 mettendo in campo le migliori eccellenze assieme a Pitti e la regione Emilia Romagna e i tanti centri di eccellenza della Motor Valley dell'Emilia Romagna offriremo agli ospiti dell'Expo la vera Motor Valley che è solo quella che sta qua e che non può avere diciamo così imitazioni da un'altra parte quindi un grande tavolo per discutere che cosa fare di utile per l'automotive in Italia certamente pronti a farlo con la consapevolezza che con Motor Show a Bologna e con la Motor Valley che sta qui in Emilia Romagna ma che vince nel mondo noi abbiamo qualche cosa da dire e dobbiamo dirlo qui dalla nostra terra e dalla nostra iniziativa altre domande bene prego che cosa avevo chiesto che qualcosa deve essere successo comunque quest'anno mi riprendevo quello che aveva detto Tosi perché dico conoscendo già la sua splendida team hanno lavorato bene anche l'anno scorso però l'anno scorso il Motor Show non c'è stato se quest'anno ha pagato che cosa è successo diciamo negli ultimi mesi che ha cambiato un po' diciamo lo scenario grazie se posso aggiungo anche 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 io qualche cosa che comincia appunto anche da parte nostra con la soddisfazione per il lavoro che si è fatto Bologna Fiere assieme a Gilevante ha deciso che il Motor Show dovesse tornare e quindi abbiamo deciso di realizzare una società assieme un accordo societario un accordo di joint venture per la precisione con il partner di Gilevante per far tornare il Motor Show insomma diciamola chiara Gilevante è un grande gruppo fieristico internazionale ha investito in Italia ha investito nelle nostre fiere ha investito nel settore importante per l'Italia con la presenza in Motor Show nel settore automotive eccetera e aveva tutti i diritti non è un gruppo italiano di domandarsi ma insomma con tutte le difficoltà di questo mercato eccetera posso sobbarcarmi da solo diciamo così questo impegno se lo è domandato e da questo è venuto fuori quello che è venuto fuori nel 2013 noi Bologna Fiere abbiamo deciso allora che non potevamo assistere al fatto che un investitore internazionale aveva tutti i diritti di avere meno fiducia sul nostro mercato e sul nostro paese e ne aveva tutti i diritti quindi in me non c'era nessunissima considerazione critica e polemica ma abbiamo pensato che toccasse a noi investire perché questo Motor Show che a tutti piaceva i cui tutti hanno lamentato il venir meno che serviva al nostro paese ci fosse ancora e abbiamo visto quanto fosse necessario che qualcuno investisse e investisse sul serio quindi non me ne voglia nessuno per questa risposta Motor Show c'è perché un grande gruppo internazionale come Gia Levante e un gruppo fieristico di tutto rispetto nel nostro paese come il gruppo Bologna Fiere hanno deciso che ci fosse ancora l'abbiamo fatto con le nostre risorse senza un centesimo di contributo e di sostegno da parte di altri non avevamo da evocare né l'Expo nella sua magnifica presenza né forse le attese per qualche risorsa dell'Expo che magari impropriamente si poteva immaginare di intercettare avevamo la nostra convinzione l'abbiamo fatto non promettiamo né paradisi né meraviglie confidiamo di poter avere l'affetto e l'amicizia di tutti i grandi amici del Motor Show per il Motor Show 2014 per confortarci ad andare avanti in un investimento che proseguirà con le ulteriori idee e iniziative che Bologna Fiere assieme ai suoi partner e a tutti coloro che vorranno fare in modo che ci sia un Motor Show a Bologna ancora più forte porteremo avanti prego Vania Porcelli diola dire quanto costa quanto avete investito in questo Motor Show ma voi sapete a tutte le vostre domande sui nostri investimenti io rispondo costa quello che costa il nostro impegno di investimento che è comunque significativo e che Bologna Fiere affronta in una condizione nella quale ha sentito di dover rispondere innanzitutto alla esigenza di corrispondere con un fatto alle tante giuste considerazioni che abbiamo sentito fare l'anno scorso perché il Motor Show tornasse la città la regione si sono tutte domandate interrogate perché non c'è il Motor Show noi insieme abbiamo sentito il dovere di farlo tornare prego grazie sono Nicola Rocco di Torre Padura sono stato amministratore di questa città per una decina d'anni che giornale rappresenta consigliere lei no nessun giornale ma innanzitutto i ringraziamenti e i complimenti a Giada e a Duccio per questo ritorno importante non ho sentito nessun coinvolgimento dell'amministrazione comunale che volente o non lente trae vantaggio da questa iniziativa così come l'altro anno ha un po' sofferto chiaramente dalla mancanza ecco c'è un coinvolgimento tra l'altro la città deve rendersi conto che il Motor Show per la città è una grande grandissima risorsa il non esserci vuol dire penalizzare la città l'esserci vuol dire esaltarla grazie ma guardi anche qui adesso non cambiamo argomento però noi facemmo nelle giornate successive alle momenti un po' difficili della fine del 2013 un consiglio di amministrazione di Bologna Fiere assieme a chi rappresentava la regione assieme al sindaco Merola assieme alla presidente Draghetti in quel consiglio abbiamo deciso di fare il Motor Show tutto il consiglio di amministrazione è stato confortato da quella presenza da quell'impegno collettivo e quindi siamo sicuri che andremo avanti con una partecipazione con una consapevolezza della nostra città con le risorse di Bologna Fiere questo sì siccome è un dato di cronaca posso sottolinearlo con le risorse di Bologna Fiere e con l'investimento di Bologna Fiere ma noi siamo una grande impresa di Bologna che lavora in Italia e che lavora nel mondo il nostro dovere è amministrare al meglio le nostre risorse il nostro dovere è fare degli investimenti che servono al territorio il nostro dovere è di fare in modo che i nostri bilanci finiscano nella fine dell'anno comunque in maniera equilibrata e speriamo di riuscirci e però se poi qualcuno dovrà al momento in cui queste cose avvengono anche criticarci perché abbiamo fatto il motor show perché abbiamo fatto questo investimento questa sarà una critica che io accetterò molto volentieri prego anche quest'anno nessun evento fuori quest'anno il nostro must è che tante centinaia e migliaia di persone siano a Bologna Fiere dal 6 al 14 di febbraio a vedere il nostro motor show lì di sempre a vedere il nostro motor show comunque ci sono questi eventi serali che non sono che sarebbero da sottolineare no ci sono delle presenze direi assolutamente molto importanti prego così sono ancora tosione senta Campagnoli non le chiedo cifre perché lei mi rimpallerebbe ma le chiedo ovviamente la joint venture inerisce la costituzione di una nuova società presumo cioè di fatto siete soci tra Fiera e GL Evans quindi le chiedo sì però chiedo è stato stabilito un criterio temporale per sviluppare il rilancio del motor show presumo che non siete qui a fare un giro e poi dopo l'anno prossimo di nuovo ad interrogarvi non so immagino che avrete stabilito un diciamo un flusso temporale per abbiamo fatto una joint venture contrattuale che prevede che quest'anno nel 2014 facessimo il motor show con un impegno 50% e 50% di investimento di ciascuno di noi abbiamo previsto che facendo e arrivando alla conclusione di motor show si parli tra di noi per come dare seguito a questo impegno nell'ipotesi di costituire effettivamente una società poi come sa ho visto che questo ho visto che questo è il momento nel quale è in corso diciamo così tutto il mercato degli ingaggi contrattuali per la Formula 1 del prossimo anno e come dicono i piloti con la loro casa speriamo di continuare insieme però volevo chiedere mi ha parlato quest'anno di investimento 50% ma rispetto alla New Co si salve miele Repubblica rispetto alla New Co del prossimo anno c'è l'ipotesi di allargare la compagine anche ad altri soggetti e poi volevo chiederle perché non c'è il presidente di Gelevane che pure era stato annunciato il mio amico Ferraton perché c'è tanto da fare lui è il direttore generale di un gruppo mondiale credo che fosse in Brasile a seguire i loro investimenti ci ha mandato ieri sera una lettera di grandi scuse per il fatto di non poter essere qui come voleva ma io voglio anzi a questo proposito ringraziarlo molto in indiretta diciamo così per tutto l'aiuto che ci ha dato e che ci danno questa New Co potrebbe prevedere anche altri soggetti noi abbiamo disciplinato la New Co perché sia una società di due soci Bologna Fiera e Gelevante di nuovo al 50% per realizzare il motoscio a Bologna se dovessimo realizzare altri discorsi dovremmo stabilire nuove coordinate con un must il motoscio bisogna farlo a Bologna a me piacciono i soci che si presentano per dire voglio aiutarti a fare il motoscio a Bologna per altre cose non appartengono al mio mandato e quindi magari sono belle intelligenti però non le posso seguire se non c'è altro vi ringraziamo tanto tantissimo abbiamo bisogno ancora di voi per un bel motoscio grazie grazie dottor Campagnoli di Bologna Fiera una ripartenza del motoscio grandi prototenti sì ci fa tanto piacere perché sentivamo di dover rispondere innanzitutto all'affetto di tanti appassionati del motoscio giovani giovanissimi e meno giovani che l'anno scorso ci hanno detto perché non ci abbiamo il motoscio e allora il nostro impegno è stato di rimetterli in piedi abbiamo fatto assieme ai nostri soci l'abbiamo fatto per questo meraviglioso pubblico e l'abbiamo fatto anche per il nostro paese per la nostra città per la nostra regione il nostro paese ha bisogno di ripartire e come ripartire senza la tecnologia e la passione in un settore come quello dell'automobile che ha rappresentato e rappresenta tanta parte del genio che ha bisogno di ripartire e la passione che ha bisogno di ripartire che ha bisogno di ripartire e la passione Grazie a tutti